Porca latroia! Cosa? Guardate qui! Questa bestia! Quecoli cuccioli teneri! Oh mio Dio! Ecco, no, le vante così grosse sono quelle che stanno... Le vante? Sì, infatti... No, 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 aspetti un attimo che passano e poi ti butti. Perché stanno sempre là sotto. Oh, questa è la viga tua! Sì, fatto! Guarda che arriva, guarda che arriva! Guarda che arriva, guarda che arriva! Guarda che arriva! Sto prendendo i cuore! Sono bellissime! Sono bellissime! Questa è l'acqua del tutto! Oh Dio! Guarda che sta arrivando a destra ragazzi! Sto stendendo! La tarta ora! Dove? Dietro lo squadro! E' vero? Scuolo bianco! E' vero? Scuolo bianco! E' vero! Ma queste che sono? Ma queste che sono? Questi quali sono? Che sono? Cosi in tempo? Così in tempo? Così in tempo? sono in scuole grigie che è girato a tacco guarda che bella, guarda che bella